Radio Radicale, siamo con Giuseppe Moles, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con la delega all'editoria, per parlare del DPCM sull'editoria che stanzia per il 2022 90 milioni e per il 2023, con un altro provvedimento apposito, altri 140 milioni. Si tratta di uno sforzo imponente in un momento di grave crisi dell'editoria italiana. Allora, com'è strutturato questo primo dei due interventi di cui lei si è occupato e che benefici ci saranno per il settore dell'editoria? Ci sono, mi sembra di capire, quattro capitoli importanti di intervento. Sì, intanto è un intervento di 90 milioni, come lei ha detto, che è la prima tranche di un pacchetto che è il famoso, è stato chiamato Fondo straordinario per l'editoria, che abbiamo fatto approvare nella scorsa manovra di bilancio e che prevede appunto questi due step, questo primo step per quest'anno e poi un altro step di 140 milioni per l'anno successivo. Diciamo che sono molto contento perché in realtà in questo modo abbiamo costruito una cornice che è importantissima in questo momento per sostenere un settore che non è in crisi da oggi e che in realtà abbiamo cercato di sostenere e quindi rilanciare negli ultimi due anni. All'interno di questo provvedimento ci sono varie voci che riguardano una serie di settori come quello delle edicole, quindi c'è questo contributo straordinario per le edicole e noi abbiamo calcolato che in base alle istanze che ci sono pervenute in passato possa essere un contributo importante perché abbiamo stimato che possa essere di 15 milioni e in questo modo riuscire a sostenere qualcosa come 7 mila aziende di edicole. Poi abbiamo un secondo step che è quello per un contributo straordinario sul numero di copie cartacee e anche lì credo che sia un intervento, almeno dalle reazioni delle parti sociali mi è sembrato che sia un intervento molto apprezzato, molto gradito. Un terzo step che riguarda, in realtà anche lì ci abbiamo lavorato d'accordo con gli altri ministri interessati all'argomento ma anche con le parti sociali che può essere molto utile per trasformare tanti contratti cosiddetti co-co-co contratti di collaborazione giornalistica in qualcosa di finalmente contratti a tempo indeterminato e questo può essere un ulteriore elemento importante in questo momento proprio a sostegno di tutta la categoria dei giornalisti. in più sempre a questo anche tutta una serie di misure per l'assunzione di nuove figure professionali o giovani giornalisti con una predilezione per una professionalità che va nelle nuove tecnologie perché dobbiamo cercare in qualche modo di accompagnare l'intero sistema in un nuovo mondo quindi non lasciando indietro tutto ciò che è stato ed è tuttora ma anche cercando di sostenere l'intero settore in una nuova realtà digitale e altro credo che possa essere almeno dalle reazioni mi sembra che sia apprezzato da tutti questo anche grazie a un lavoro di, lo voglio sottolineare, ripetere, collaborazione con tutti non solo con gli altri di Casteri a cui la norma segnava questa collaborazione con me ma anche proprio le parti sociali sia i giornalisti quindi i sindacati dei giornalisti sia gli editori mi sembra dalle reazioni che siano tutti contenti di questo anche perché credo che abbiano compreso che questa cornice può essere utile attraverso tutti questi strumenti e queste formule anche un po' innovative di sostegno al settore se utilizzati bene questi strumenti possono essere loro utili proprio anche per rilanciare. Dunque le volevo chiedere quanto durerà secondo lei la transizione digitale per la stampa italiana perché una parte è per il bonus edicola l'altra per le copie vendute e questo è il primo capitolo diciamo quello che possiamo definire materiale. Allora quanto durerà secondo lei questo tipo di transizione oppure ci sarà sempre una nicchia per questo tipo di settore per le vendite nelle edicole e per le copie vendute? Io forse sbaglierò ma sono convinto che i due mondi cioè il mondo tradizionale cartaceo, la carta e così via il giornale il periodico cartaceo e il nuovo mondo digitale possano non solo convivere ma in qualche modo aiutarsi l'un l'altro bisogna vedere come questi strumenti che ho messo a disposizione vengono utilizzati. Ci sono tante esperienze sia italiane sia internazionali che in realtà dimostrano che la convivenza non solo può essere possibile ma può essere anche utile. Dall'altro lato voglio ricordare che questo pacchetto, questo fondo, fa parte di una serie di misure che abbiamo messo in manovra approvata lo scorso anno e ce n'è uno fondamentale per la sopravvivenza anche del quotidiano cartaceo che sono questi 120 milioni per il credito della carta per i quali stiamo attendendo l'ennesima autorizzazione da Bruxelles ma siccome è un provvedimento uguale a quelli che ho fatto precedentemente non ci dovrebbe essere considerato un aiuto di Stato. No perché appunto per questo, per come l'abbiamo strutturato già in passato, è stato approvato proprio perché non è aiuto di Stato. Tenga presente che però, per esempio, proprio sulla carta, sull'energia, come sappiamo, la carta e l'energia sono diventate due voci molto pesanti per il sistema editoriale italiano. Era quasi inimmaginabile. Devo dire che abbiamo avuto fortuna, o non so, il caso, o voluto, che avessimo previsto proprio questo credito carta che quando sarà poi utilizzato, una volta autorizzato, può essere un'ulteriore boccata d'ossigeno. Ecco, l'innovazione tecnologica, che è la parte più corposa del DPCM, come verrà spesa? Per capire un po' che tipo di innovazione ci sarà e volevo chiederle se è contemplata anche la digitalizzazione degli archivi. Noi siamo stati molto, abbiamo appositamente lavorato in modo tale che fosse il più ampio possibile come utilizzo di strumenti. Tutto ciò che può essere necessario a questo percorso deve essere utilizzato. Perciò dicevo, se utilizzato bene, quindi anche la digitalizzazione, ma anche il fatto, e io lo voglio sottolineare, di aver previsto degli incentivi attraverso i fondi per l'assunzione di questi professionisti del settore, di questi nuovi mondi che magari sono anche difficilmente reperibili, aiuta affinché si apra ulteriormente il mondo dell'informazione e dell'editoria alla digitalizzazione, ad accompagnare ulteriormente il digitale rispetto a cartaceo, a nuove forme innovative di comunicazione, di informazione e così via. Del resto, ripeto, ci sono casi all'estero, e in Italia si stanno già sperimentando, che hanno avuto un grande successo. Senta, la parte meno cospicua del DPCM riguarda l'assunzione dei giovani, perché è 12 milioni. Quanti giovani, pensa, si potranno... Non dobbiamo guardare l'importo complessivo, dobbiamo guardare la valutazione, o meglio, le stime che sono state fatte. E le stime sono state fatte con la collaborazione proprio delle parti sociali, e insieme si è valutato che attraverso quei 12 milioni, cioè questo tipo di incentivi, potremmo arrivare a coprire fino a 700 unità. Quindi è, come dire, è in qualche modo limitativo guardare soltanto all'importo. Quell'importo, così come è strutturato, in realtà potrebbe portare a 6-700 nuove assunzioni o trasformazioni. E sono numeri importanti. Senta, ci sarà la possibilità di fare una verifica su quanto viene speso e come viene speso tra questo DPCM e il prossimo DPCM che, insomma, sarà di 140 milioni? Beh, io per quello sottolineavo il fatto che questa è una cornice. Abbiamo individuato una serie di ambiti su cui investire e sostenere e di conseguenza si impara attraverso questa esperienza. Mi spiego meglio. Se alcuni di questi fondi non dovessero essere utilizzati, le faccio esempio, quello più semplice è quello per le edicole. Noi abbiamo fatto una stima in base alle passate richieste. Ecco perché potrebbero, a nostra valutazione, riguardare 7000 edicole. Ma se sono di meno, vuol dire che in qualche modo intanto non si perdono questi soldi, ovviamente. In secondo luogo, che possono essere utilizzati per altri capitoli, sempre all'interno del fondo, sempre per il sistema, o utilizzati in modo diverso. È un percorso, perciò parlavo di cornice, che può essere utile anche a quello che sarà il DPCM futuro l'anno prossimo su questi stessi ambiti. Ecco perché è un fondo straordinario per l'intero comparto editoriale. Le volevo chiedere, cosa va, allora le chiedo di farmi una specie di diagramma torta su quello che va alla stampa, ai giornali e anche ai giornali internet, alla televisione e alla radio, se è possibile fare una ad occhio. Ad occhio faccia 90-35, anzi no, 90-25. Quindi tutto il resto va alla carta stampata e quant'altro. Ho capito. Ci sono stati problemi di competenza con il MISE? No, assolutamente no. Grande collaborazione, il tavolo informale che ho creato proprio per studiare insieme, perché ricordiamolo la norma dell'istituzione di questo fondo straordinario che ha durato di due anni, prevedeva appositamente che ci fosse il concorso da parte del MISE, del Ministero del Lavoro, del MEF e poi anche la, come dire, sentite le parti sociali e quello che abbiamo fatto. Abbiamo anche alla fine accolto alcuni suggerimenti, alcune sollicitazioni delle due parti sociali, cioè del sindacato dei giornalisti e di quello degli editori. Quindi ottimo lavoro, direi. Prevedibilmente l'altro DPCM dovrà attendere un altro anno oppure c'è un altro tipo di scadenza compatibilmente con la verifica dei risultati di questo primo? Beh, io credo che proprio per come l'abbiamo strutturato, e cioè una cornice con una serie di capitoli, quindi non norme generali, ma proprio l'individuazione di una serie di capitoli, si vedrà immediatamente se funzioneranno o quanto velocemente funzioneranno. Quindi chiunque poi avrà la responsabilità del nuovo DPCM credo che si troverà una strada molto molto facilitata. Ecco perché insistevo sulla cornice. E' un fondo straordinario e secondo me è l'ultima occasione che abbiamo, che il sistema dell'informazione delle editorie in Italia e del giornalismo ha, per rilanciarsi. Dipende dall'uso che se ne fa e dipende se in qualche modo tutto questo porti a un ulteriore passo in avanti e non solo al puro sostegno. Noi ne siamo tutti convinti da questo punto di vista. Bene, io la ringrazio molto per averci concesso questo spazio di informazione sul DPCM che riguarda il sostegno all'editoria, che lo ricordiamo per il 2022 vale 90 milioni e per il prossimo anno ci sarà un altro ulteriore investimento di 140 milioni. Ringrazio il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giuseppe Moles e seconde legale ditoria.